Una volta che ci siamo chiariti perché siete qua e visto che qua ci siete, dobbiamo capire a che punto siamo, quindi se siamo partiti dalla tassazione attraverso le aziende e dove le aziende non arrivano è sufficiente una tassazione valutativa degli uffici, il sistema sarebbe perfetto e quindi non avremmo lacune, tuttavia non è così semplice. Cioè la tassazione attraverso le aziende in sé si aggiunge, abbiamo detto che è molto facile, prima c'era quella attraverso gli uffici che funzionava da 3 mila anni, allora dice ma dov'è il problema? Perché stiamo qui a fare i master di diritto tributario, i libri, le cattedre universitarie, tutto questo a che serve? Dove arrivano le aziende? Dove ci deve andare l'ufficio? Va all'ufficio da un'occhiata spannometricamente, più o meno per ordine di grandezza, quanto guadagna il meccanico? Potrebbe essere finito il master qua, però in realtà in questi due passaggi c'è di mezzo una zona grigia in cui cos'è un'azienda e cos'è un'azienda... Ma cos'è un'azienda si è pure capito! Dov'è che però funziona la tassazione attraverso le aziende e dove non funziona si è capito già meno. Perché non sono due mondi paralleli che vivono ognuno per conto suo, cioè potremmo pure finire il master dicendo che qualcuno viene tassato attraverso le aziende e qualcun altro viene tassato attraverso gli uffici. Questo esaurisce la tassazione e abbiamo finito. Purtroppo c'è un'integrazione fra i soggetti che lavorano nelle aziende e quelli che lavorano fuori e c'è una interazione osmosi per cui ci sono delle organizzazioni abbastanza grosse da tassare i consumatori e i dipendenti, ma non abbastanza grosse da tassare il padrone. Ci sono delle visibilità contabili, delle tracce contabili dell'organizzazione, ma spesso sono tracce contabili deboli che vanno integrate con la determinazione a occhio, per ordine di grandezza, dice ma quante peggamattoni può fare sta fornace, quanta gente ci lavora, quanto valore aggiunto ha, cose che non sono totalmente contabili, sono stime ma basate su indizi contabili, quanto ha incassato, quanto c'è sui conti correnti, non è che dai conti correnti bancari si vede il reddito, però degli indizi ce l'hai e quindi sono mondi. Perché la nascita della contabilità ha fatto un'attrazione fatale nei confronti della macchina amministrativa che si è innamorata dello strumento fino a estenderlo. Certo, non lavorava, scaricava tutto il lavoro sugli uffici amministrativi delle aziende e quindi tendeva a fare il meno possibile, senza tappare il buco dove gli uffici amministrativi delle aziende non arrivavano, perché gli uffici amministrativi delle aziende servono a tenere i conti dell'azienda, non servono a tappare, a fare il lavoro per il fisco e poi paga quello che produce detersivi. Quindi il lavoro per il fisco deve essere una rigaduta del lavoro che si fa nella fabbrica di detersivi e nella fabbrica di scarpe, con poche variazioni sul tema, se no non funziona. Non può imporre una contabilità il fisco dove una contabilità non serve all'attività produttiva? E non può far fare alla contabilità che serve all'attività produttiva delle ulteriori fasi di lavoro, adempimenti che non servono all'attività produttiva, che sono estranei all'attività produttiva. Dice, allora adesso per ragioni fiscali mi identificherai l'eredità ricevute da tutti quelli che comprano le cucine Febal. Dice, ma perché? O come si chiamava la madre? O dove abitano? Che titolo di studio hanno? Io voglio sapere questo, siccome te vendi le cucine, voglio sapere i titoli di studio, e poi uno faccio tre lauree, ma che io sto a vendere le cucine, che devo andare? Mi faccio avere il certificato? Il fisco può sfruttare le funzioni che fanno le organizzazioni, ma può snaturarle fino a farle diventare ausiliari del fisco. Cioè non le può snaturare, non le può snaturare, poi non se lo filano, non lo fanno, non è affidabile. Ma non devono fare certificazioni, acquisizioni di prove che per vendere le cucine o i detersivi non gli servono. Quindi finché l'interesse del fisco coincide con l'interesse gestionale, si può utilizzare quello che l'azienda fa per i suoi motivi interni. Si può forzare un pochino, poco poco, perché l'azienda vuole stare in pace, quindi un po' di cose per il fisco le fa, in più, ma non troppe. Anticorruzione, antiriciclaggio sono adempimenti che possono ancora essere ingeriti, però senza esaggimento. Però devono essere conformi alla stratificazione delle informazioni tenute dalle aziende. Non possono comunicare ciò che non sanno. Esatto, non possono acquisire informazioni ulteriori rispetto a quelle a cui loro sono interessati. Cioè se all'azienda arriva un bonifico per il pagamento di una fornitura anticipata, non indagherà mai su quale sia il conto corrente da cui è arrivato il bonifico. Non c'è motivo. Quindi uno gli fa il bonifico, si porta via le scrivanie, poi dà il conto di chi è arrivato il bonifico. Non interessa saperlo all'azienda, ma sapere che qualcuno gli ha dato credito per le scrivanie. Non svolge un'attività statistica, sociologica. Vende scrivanie e detersivi. E non sono la stessa cosa il fornitore col cliente. Cioè la conoscenza che si ha dei rispettivi controparti non è identica. Il fornitore tende a essere selezionato meglio rispetto al cliente che il portasolo. Chi compra viene sempre conosciuto diversamente da chi vende all'azienda. Nel senso che chi compra i prodotti dell'azienda è conosciuto per quanto riguarda la sua solvibilità. Dice questo, mi porta i soldi o fallisce? Poi chi è? Che fa? Lui ci dà i soldi e si porta via le merci. Quindi ci interessa sapere che è solvibile. Chi invece vende qualcosa all'azienda deve essere anche un venditore affidabile. Non è che ci porta le cose che poi non funzionano. E noi lo dobbiamo conoscere. Perché abbiamo interesse di andarla a prendere per il collo. se la farina che ci ha venduto poi era colla. Noi ammazziamo tutti gli acquirenti dei biscotti, faceva schifo la farina, c'ava la peste bubonica, il virus e io lo devo andare a riprendermi i miei soldi, fargli causa, dargli dei responsabili. Per cui l'azienda spesso conosce meglio i fornitori dei clienti, ma in relazione a quanto ha bisogno di conoscere i fornitori, visto il tipo di bene, cioè se è un bene standard si vede subito, quindi se sono i telefonini e i computer delle frodi carosello, vabbè se accende va bene, lì lo vende, lo vende. Quindi ho interesse soltanto a sapere chi è che piglia i soldi e ad avere ricevuta, cioè ad essere libero, che non me li richiedono due volte. Quindi una contabilità nasce per motivi civili, motivi aziendali anzi, e l'azienda l'ha sempre avuta, la continua a avere e il fisco ci trova bene e la cavalca, non riesce a cavalcare l'azienda, la contabilità che ha imposto a quelli che chiameremo più avanti nel master lavoratori indipendenti, cioè lavoratori senza azienda, in cui l'azienda coincide con il titolare. O con quei pochi scaffali, il trapano del lavoratore indipendente. Senza dimenticare che non c'è una linea di marcazione, che oggi sei lavoratore indipendente e domani diventi azienda. Purtroppo è la linea di... Ci sono sfumature continue, la zona finché c'è un dipendente, due dipendenti, tre dipendenti, cioè si... La contabilità non smette, non è inattendibile e il giorno dopo diventa attendibile, si passa al livello di credazione in cui le cose da tenere in piedi sono talmente tante che la contabilità diventa sempre più affidabile fino a diventare totalmente affidabile. Quindi è quello che il fisco... Diventa totalmente... La contabilità diventa affidabile soltanto quando scompare la proprietà fisica, cioè si esce dallo stadio del capitalismo familiare e si va nel capitalismo istituito. Non c'è più nessuno che può dire all'amministratore fai così perché io sono il padrone. Se no ti caccio. Anche se può essere che in situazioni di questo tipo l'amministratore rubi improprio, ma in questo caso l'azienda è danneggiata, cioè i proprietari sono danneggiati dall'amministratore che ruba improprio. E nel sistema produttivo italiano è l'eccezione la public company, quella spersonalizzata, senza un riferimento? Allora esatto, la spersonalizzazione amministrativa, gestionale, il direttore amministrativo diverso dal padrone è frequentissima, non c'è azienda senza spersonalizzazione amministrativa, ma la spersonalizzazione proprietaria nel nostro capitalismo familiare è rarissima, cioè quasi tutte le aziende sono di proprietà di gruppi familiari o di multinazionali oppure di enti pubblici. Beh, in effetti ci sono delle aziende di proprietà di enti pubblici dove i manager facevano un po' impicci e imbrogli improprio. Mi prendo il bonus, ma anche inutile, dice, siccome l'azienda è inutile e io ho fatto questa bella operazione redditizia, allora adesso faccio fare una fattura da una società dell'Ichtenstein per servizi mai resi, e poi mi riprendo io, mi autodò il bonus perché sono stato bravo, mi autodò i premi di produzione, me li creo da soli. Però la spersonalizzazione amministrativa viene per aree diverse, però questo lo facciamo in un altro video, che sarà la rigidità e la flessibilità dell'amministrazione delle aziende a seconda delle aree. Quindi partendo dal basso, dall'azienda non organizzata, dal lavoratore indipendente, cos'è il primo elemento che porta all'emersione e alla rigidità? Cos'è la prima cosa che si rigidisce? Abbiamo detto che è la pluralità di persone, quindi quello che rende l'azienda diversa dal lavoratore indipendente col trapano e con il forno è la pluralità di persone. Quindi i dipendenti, cioè l'azienda è organizzazione, organizzazione è pluralità di rapporti giuridici interi, interi, ruoli, responsabilità e quindi mano a mano che arrivano i dipendenti si comincia ad avere un dipendente, diciamo un dipendente è una specie di socio, quindi viene schiavizzato la cassiera, c'è il pasticcere che prende una cassiera a Moldava e quindi gli dà 400 Euro al mese in nero e fa un po' da padre padrone. Perché conta sul suo personale carisma, la ricattabilità eccetera. Lei gli potrebbe tranquillamente piantare una grana, non mi ha pagato i contributi, le marchette, mi ha fatto lavorare in nero eccetera. E' però abbastanza raro che la paura di perdere il lavoro non la trattenga, perché tu puoi denunciare, chiedere i contributi, andare al patronato e tutto, però poi dopo un altro lavoro non lo trovi. E quindi spesso preferiscono rischiare i datori di lavoro di questo tipo e continuare a comportarsi esattamente come si comportavano quando erano da soli. Quando però i collaboratori cominciano a diventare 4, 5, allora il rischio di quello che pianta la grana comincia ad essere più forte. Allora quest'area del lavoro dipendente comincia a essere visibile, anche perché poi questi si vedono, anche la cassiera si vede, cioè se il fisco controllasse veramente il territorio dovrebbe entrare nelle pasticcerie e dire scusi lei è segnata, mi segno, non ci vorrebbe niente, perché è visibile, così come è visibile la frutteria, è visibile chi c'è sta dentro. Lo vedi se c'è il pakistano oppure c'è il padrone italiano con la cassiera ucraina. Lei dice, lei ce l'hai, ce l'hai marchette della cassiera ucraina, quindi sarebbe facile controllarlo, però bisognerebbe valutare una rogna, non si fa, perché vuoi far lavorare gli uffici. E' meglio fare le disquisizioni interpretative su quello che è stato dichiarato. Quando sono parecchio numerosi, anche 6, 7, allora c'è sempre maggiore visibilità, c'è il rischio che uno pianti la grana, perché basta che pianti la grana uno per dire sono pagati tutti in nero e non è che parla per sé, parla per tutti. Quindi il rischio con la moltiplicazione di dipendenti cresce e allora si tende a mettere in regola i dipendenti per poi magari dargli dei fuori busta in modo che loro riescano sempre a associare al dipendente una busta paga. Poi che sia stato dato qualche cosa in più, quello lo deve provare il dipendente, per cui il dipendente non può più dire io ho lavorato qui per un anno e il datore di lavoro non può esibire un cedolino paga che mi ha fatto. Il datore di lavoro lo può esibire, basta che sia un cedolino, un minimo congruo e poi la cosa finisce lì. Il potere di ricatto del dipendente sul datore di lavoro si è azzerato così, è messo in regola. Poi ci sta l'incasso dei crediti, altra area di… Cioè chi è che prende i soldi? Cioè perché la registrazione degli incassi è un punto di interesse del titolare, cioè meglio pagare tutte le tasse che essere imbrogliati dai cassieri. E' probabile infatti che la sola dipendente ce l'ha al bancone e non in cassa. Certo, la dipendente ce l'ha al bancone, ha al bancone e non in cassa, alla cassa ci sta il padrone. Oppure alla cassa ci sta lei, però lui guarda dal bancone e non è che lei si può mettere, è tenuta sotto controllo. Perché il padrone vuole essere sicuro che i dipendenti non facciano la cresta. Infatti anche quando uno va dal meccanico, poi fa quanto le devo, ah vado a parlare col principale. Io non sono abilitato a gestire soldi, per cui anche la registrazione degli incassi si proceduralizza con una relativa rapidità. Se il padrone non può essere davanti alla cassa 24 ore al giorno è necessario. Per questo è difficile togliere da sopra. Tu sai cosa vuol dire togliere da sopra e togliere da sotto, vero? Lo spieghiamo. Allora, in effetti l'evasione è da dove nasce. Qual è il modulo più semplice per togliere i soldi agli occhi del fisco? E' non farli entrare neanche nel circuito produttivo dell'azienda. Cioè appunto togliere da sopra vuol dire togliere i soldi dal circuito dell'azienda prima al momento in cui della produzione. Praticamente non battere lo scontrino nel nostro caso. Al momento della vendita, tolgo i ricavi, tolgo i ricavi, piglio i soldi che paga la persona che fa la spesa, me li metto in tasca e non li segno fra i ricavi. Questo è il nero classico. Quindi incasso le tariffe dell'albergo. La sera quanto abbiamo incassato delle coppiette? Io lavoro al bar di un alberga ora e porto sul cale, cioè il padrone va lì, dice quanto ci sta? 2000 Euro. Benissimo, ne segniamo 400 e le altre me le spendo io, me le porto via. Queste non entrano proprio nella contabilità e non se ne saprà a me niente. Invece togliere da sotto, io faccio gli appalti per la strada della provincia, non è che la provincia mi dà i soldi, io non li segno, la provincia mi fa il bonifico. Quindi io non posso togliere da sopra, lì è tutto segnato e quindi metterò dentro qualche spesa fittizia, acquisto asfalto, acquisto bulloneria, però c'è dei documenti. Quindi infatti mi verrebbe da chiedere se per l'imprenditore è uguale scegliere tra una o l'altra, cioè se decidere se togliere da sopra o con i costi sotto sembrerebbe uguale. Ovviamente il lavoratore indipendente toglie da sopra perché è libero, anche l'imprenditore se può dipende dai clienti, cioè chi produce gli yacht per gli sceicchi arabi, il cantiere con 200 persone va dallo sceicco arabo e dire io fatturare dei 15 milioni di dollari yacht, tu dare me estero su estero altri 5 e qui lì puoi gestire il cliente. Se c'è un supermercato come fai? Dice signora guardi alla cassa, mi prendo il suo dash però lei mi dà in nero un pezzettino. Allora non è gestibile, devi trovare un altro modo. La prima opzione è sempre togliere da sopra, quindi quando diventano… Quindi a un certo punto le dimensioni dell'organizzazione in relazione alle prestazioni che rendi, quindi se vendi appartamenti lo puoi ancora fare, se vendi marmellata o detersivi hai delle difficoltà perché il numero di persone coinvolte ti impedisce di scavalcare la proceduralizzazione, se vendi tanto le… c'è sta uno che produce macchine fatte ad personam, una specie di view della Ferrari, dice ne facciamo 4 l'anno, è chiaro che ti metti in contatto col cliente e dice senti quanto fatturiamo o quanto non fatturiamo e quando vendi degli autoricambi o dei materiali per l'edilizia è già più difficile mettersi d'accordo, quello paga 30 euro, quanto fatturiamo o quanto… Il famoso scontrino non fiscale che ti fa la bilancia del fornaio che non lo fa passare nello scontrino fiscale e allora ti chiedo, non mi chiedo tutti, allora la COP evade perché ti fa lo scontrino non fiscale. Ma perché la COP regista… allora nella procedura… però qui magari faremo delle lezioni ad hoc su quali sono… anche perché c'è sta il paragrafo 3.2 e seguenti che ti spiegano anche quali sono i riscontri contabili che seguono sia le aziende, sia per gli incassi, sia per… beh, ma detto proprio come diciamo agli esami, gli incassi totali giornalieri sono registrati, non è che si registra incasso per incasso… scontrino non fiscale è una specie di film per la scomposizione degli incassi giornalieri, ma quelli poi li potrebbero anche buttare, anche per loro perché resta un documento con… perché loro con lo scontrino non fiscale incrociano i soldi in cassa con la singola cassa che ha fatto l'equivalente di 1.500 Euro di scontrini non fiscali, con i 1.500 Euro che la cassiera gli deve dare, perché se ci sono scontrini non fiscali per 1.500 Euro e ne arrivano 1.300 Euro vuol dire che o c'è stato il rapinatore o lei se l'è rapinati, cioè controllo interno, a questo serve lo scontrino non fiscale. Un termine infelice perché la gente pensa che dovranno cambiare con un sinonimo, scontrino. Scontrino aziendale, valido gli effetti fiscali. Scontrino aziendale, che scontrino non fiscale la gente dice, lo vedi, i grandi evasori… Ci sono due mercati che sono giustificare dicendo che siamo scontrino fiscali in quanto i registri sono, perché se no la gente pensa che la coppa si mette in tasca i soldi. Esatto, perché la gente pensa, come dicevamo, che c'è il signor Coppone, cioè la Copp, che è una signora a quale tetto, poi Emiliana, che si mette in tasca i soldi, anzi li mette fra le tette, Felliniana, perché fa lo scontrino non fiscale, perché siamo sempre lì, la personificazione dell'organizzazione. E l'ignoranza, una certa mancata conoscenza dell'ignoranza economica. Ma non è mancata conoscenza, ma chi gliel'ha mai insegnata? Cioè economia, politica, società, diritto, sono tutte cose. Noi siamo cresciuti ai verbi greci, lauristo, filosofia, cartesio, matematica, non sappiamo niente. E quel po' di economia che si fa a giurisprudenza fa un minuto per renderti l'antipatica. Ti fa odiare l'economia.